Violento tamponamento tra due tir sulla bretella a doppia corsia che collega la Ionica 106 alla Statale 100. L'incidente è avvenuto a poca distanza tra lo svincolo per Palagiano, nel Tarantino, all'altezza di una stazione di servizio. Uno dei due mezzi pesanti coinvolti era una cisterna e trasportava carburante, l'altro invece Coca-Cola, quest'ultimo proveniente dalla Calabria. Ha perso parte del carico, centinaia di lattine sono finite sull'asfalto in corso di accertamento le cause che hanno provocato il sinistro. Stando a quanto si è preso l'incidente che non ha coinvolto altri mezzi e che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi sarebbe venuto all'uscita della stazione di servizio, ma la dinamica è ancora tutta da accertare. I conducenti dei due tir hanno riportato contusioni e ferite non gravi. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e condotti in ospedale. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per diverse ore, il traffico deviato verso Palagiano in entrambe le direzioni. Sul posto anche il personale dell'ANAS, i carabinieri e i vigili del fuoco, questi ultimi sono intervenuti con un mezzo del distaccamento di Castellaneta ed una gru proveniente dal comando centrale di Taranto. È stato necessario infatti rimuovere i camion, uno dei quali in seguito allo schianto ha visto staccarsi la cabina di guida finita sulla carreggiata opposta. Si sono protratte a lungo le operazioni di pulizia e il ripristino dell'asfalto sul quale erano finite centinaia di lattine di Coca Cola.